sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della nostra amata vergine maria a valeria coponi questa mistica di roma che ricordiamo i suoi messaggi hanno avuto l'approvazione di primatur da padre amort allora andiamo a leggere il messaggio dell'otto febbraio 2023 richiamiamo in noi lo spirito santo perché possa venire a illuminarci su questo messaggio meraviglioso e possa venire a parlare in noi a respirare in noi a battere nel nostro cuore a muoversi nella nostra volontà e consegnare al nostro cuore una riflessione una spiegazione del messaggio che andremo a leggere insieme prima di iniziare vi chiedo gentilmente se volete lasciare un mi piace sul video e un commento in questo modo ognuno di voi mi aiuterà a far crescere il canale e di conseguenza questi messaggi questi video si diffonderanno ad altre persone io sono con voi tutti i giorni della vostra vita come fareste senza il nostro aiuto in questi terribili tempi e ultimi tempi riuscirete ad andare avanti soltanto perché gesù e dio non vi lasciamo mai vedete bene cosa succede ai vostri fratelli non credenti satana gioca con loro fino a finirli voi cercate di non perdere mai di vista chi vi ama da sempre cioè gesù e me non si illudano i vostri fratelli lontani dalla grazia di dio saranno sempre soli per tutta la vita poi saranno abbandonati prima degli uomini poi da dio e satana nel profondo dell'inferno farà di loro ciò che vuole cioè pane per i suoi denti gesù non esisterà più per questi suoi figli che di loro spontanea volontà lo hanno abbandonato figlia mia prega per questi tuoi fratelli non credenti poiché loro non sono del tutto consapevole di ciò che li aspetta sai bene che i vostri tempi stanno per concludersi poi il brutto che avete vissuto sarà dimenticato e godrete finalmente dell'amore di dio continuate a parlare a questi vostri fratelli del paradiso e dell'inferno poiché dopo sarà troppo tardi io vi amo e voi mamme capite quanto io stia soffrendo per questi figli disobbedienti allora continuate a pregare per loro affinché sentano su di loro l'amore di dio amore del mio direttissimo figlio figlioli io non vi lascio soli nemmeno per un attimo cercate di vivere nella gioia di dio maria la vostra vera madre sembrano messaggi catastrofici però non dobbiamo usare la nostra volontà per comprendere i messaggi mariani ma neanche per comprendere la bibbia perché c'è un grande studio dietro e per comprendere il dono della vita per comprendere il giorno che inizia per comprendere il giorno che finisce bisogna richiamare lo spirito santo in noi perché lui è la causa dell'inizio e della fine di ogni cosa e tutti noi prima o poi saremo al cospetto della santissima trinità tutti credenti non credenti e la vergine maria ci ricorda che esiste una dimensione eterna che è l'inferno questa dimensione che è fatta di infiniti livelli a scendere e dove sono destinati tutti coloro che di propria spontanea volontà quindi di propria spontanea volontà scelgono di vivere una vita sulla terra senza dio nel dio denaro nei piacere della carne senza mai pregare magari facendo tante opere di bene con con quella cosa che poi tu alla fine dici ma io l'ho fatto ma io ho fatto quindi e invece non basta perché per salvare questi fratelli e sorelle dalla loro volontà che li porta li condurrebbe all'inferno c'è una strada da percorrere col mio sacerdote durante una delle tante confessioni ho detto signore padre nel mio cuore c'è un desiderio posso offrire al padre la chiusura delle porte dell'inferno per tutti gli assassini i mafiosi per tutti i massoni satanisti affinché la mia preghiera possa essere letta durante il giudizio nel tribunale eterno per queste anime e possono queste anime davanti di os dire va bene accetto il sacrificio di di tutte queste anime sulla terra che pregano per me perché io magari sulla terra ho fatto tutto il male possibile per meritarmi di mia spontanea volontà all'inferno e quindi possiamo nelle nostre preghiere tutti i giorni offrire delle ave maria offrire dei santi rosari delle coroncine delle specifiche preghiera affinché le porte dell'inferno si chiudono per determinate anime e possono avere la possibilità di andare in purgatorio certamente non sarà indolore offrire al padre questo peso perché il padre poi ti prova i demoni vengono a bombardarti nei sogni come succede anche a me arrabbiati perché determinate anime dovevano andare all'inferno invece sono in paradiso io sono molto felice di questo perché la mia preghiera viene accolta dal padre questa preghiera poi viene accolta anche da queste anime che nel tribunale eterno non hanno più la tentazione del demonio e liberamente possono dire signore ti chiedo perdono per favore dammi la possibilità di andare in purgatorio il signore non ti dirà mai di no allora il compito oggi del cristiano è quello di comprendere che l'inferno esiste e di offrire atti di penitenza di riparazione in questa quaresima in tutto l'anno in questi tempi che si stanno concludendo poi spieghiamo perché si stanno concludendo cosa vuol dire che i tempi si stanno concludendo offriamo atti di riparazione di sacrificio di penitenza verso i nemici di dio verso tutti coloro che sono destinati ad andare all'inferno per loro volontà questo è questo vuol dire anche offrire la propria vita per i propri fratelli e sorelle perché finché siamo in vita sono tutti i nostri fratelli e sorelle anche i malvagi per i quali dobbiamo pregare e offrire sacrifici per la loro salvezza affinché possano anche loro andare in paradiso e vivere in mondi certamente dove non c'è la morte la malattia ma c'è una evoluzione superiore alla nostra dove c'è la felicità eterna questo è il compito del cristiano oggi in questi tempi che si stanno concludendo si concluderanno con i segreti di meggiugori si concluderanno con l'avvertimento universale con il grande miracolo e con la giustizia divina e con la seconda venuta di gesù quindi per favore preghiamo offriamo offriamo sacrifici offriamo rinunce per la salvezza di tutti questi nostri fratelli e sorelle che sono in punto di morte che sono in vita ma che servono e adorano il male questo vuol dire dare la vita anche per coloro che scelgono di distruggerla in questo modo a causa nostra dio chiuderà le porte dell'inferno e metterà a tacere anche il diavolo che avrà da ridire contro la nostra vita contro la nostra esistenza per questo per questi atti di amore che facciamo per la gloria di dio gli ha notato gesù cristo nel cuore immacolato di maria